per una delle liste collegate alle liste truffa concedendo l'esenzione dalla raccolta è veramente un pessimo segnale nei confronti dei cittadini, questa è la politica, la vecchia politica, quella del potere per il potere degli imbrogli che i cittadini vogliono spazzare non abbiamo capito neanche cosa è vogliamo dire due parole? sì, grazie ah va bene, allora siamo a posto, andiamo